destinato a numerare ogni atomo della terra se fossi immortale destinato a numerare ogni atomo della terra forse potrei pensare di essere qualcuno ma perché inorgoglirmi in una vana ricerca di scienza e di gloria quando sono una bassa preda della condizione umana commento perché solo essendo una bassa preda della condizione umana puoi alla fine riconoscerti immortale